Riprendono gli appuntamenti con pomeriggi animati, il ciclo di proiezioni di film rivolto alle famiglie e ai bambini dai 4 ai 10 anni. La rassegna, nata dieci anni fa, era stata sospesa durante il periodo della pandemia e ora finalmente riprende con la gioia di tutti. Ad essere coinvolti sono vari soggetti del territorio in un proficuo rapporto di sinergia. I circoli sociali, ossia il Cibenopile, come circolo capofila, il Gorizia e il Guerzoni. Fondamentale poi il cofinanziamento della fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, la collaborazione dell'assessorato alle politiche culturali e della biblioteca Il Falco Magico, come delle associazioni Teatro al Quadrato, Aporie e Circo Stras, che garantiranno momenti di animazione nel parco dopo la visione dei cortometraggi. Ad illustrare la rassegna è Cosetta Bottoni, vicepresidente del circolo Cibenopile. Il progetto animati per pomeriggi animati estate ha la durata di 5 proiezioni e 7 incontri. E poi la novità di quest'anno è una festa che vorrei chiamare Parco Libera Tutti nel parco di Cibeno Pile, dove contemporaneamente ci saranno circa 5 laboratori, uno artistico creativo, l'altro letture sotto l'albero, sotto una bellissima quercia, laboratorio circense e una lezione aperta di tessuti aerei, che è una nuova disciplina sportiva di acrobazia aerea. Diciamo che in questo progetto collaborano tantissimi attori, ci sono quindi abbiamo intanto il cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio, che in tutti questi anni ha sostenuto, la collaborazione dell'assessorato alle politiche culturali e naturalmente la biblioteca e il falco magico che sceglie i film e i libri che sostengono e ampliano e sviluppano il tema a trattato dai cartoni animati. Io spero che anche quest'anno, in questa primavera, si riprenda e che i genitori si prenotino, anzi hanno già cominciato a prenotarsi, gli appuntamenti di giugno, di maggio, i circoli che partecipano a questa iniziativa sono il Circolo Cibenopile, che è capofila, poi il Circolo Gorizia e il Circolo Graziosi. Speriamo nel futuro, nel periodo invernale, che si possa continuare anche con pomeriggi animati, quello classico, diciamo così. Grazie a tutti.